La Nizar e Loredana Lecciso non saranno le nuove troniste di Uedì La Nizar e Loredana Lecciso non prenderanno parte alla nuova stagione del Trono Classico. Arrivano notizie su Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. La Nizar e Loredana Lecciso non prenderanno parte alla nuova stagione del Trono Classico, smittendo le indiscrezioni che vedevano le due prime donne nel parterre del programma di Canale 5. La Nizar e Loredana Lecciso non saranno le nuove troniste di Uomini e Donne. Uomini e Donne ha chiuso i battenti da pochissimi giorni su Canale 5, ma c'è già chi scommette sui probabili nuovi tronisti che siederanno sulle poltrone rosse a partire da settembre. . Il settimanale Vero TV aveva lanciato una curiosa indiscrezione a riguardo, Maria De Filippi avrebbe voluto come troniste della prossima edizione a Ida Nizar e Loredana Lecciso, forse per fronteggiare la concorrenza del nuovo programma pomeridiano offerto a Caterina Baligo, che andrà in onda su Rai 1 nella stessa fascia oraria. Il noto magazzino aveva ipotizzato una mossa strategica dietro l'ingresso dell'ex compagna di Albano Carrisi e l'effervescente iberica reduce dalla quindicesima edizione del Grande Fratello. Non è una novità che il trono over sia molto più seguito rispetto a quello classico, visto che le vicende amorose di Gemma e di vari siparietti con Tina Cipollari mandano in visibilio lo studio ed il telespettatore da casa. Ueddi, arriva la smentita sul trono di Aida e Loredana. La presenza della showgirl pugliese e della pupilla di Barbara D'Urso avrebbe avuto dunque lo scopo di catturare l'attenzione da parte degli utenti di Canale 5. . Mentre il gossip ricamava su questa indiscrezione, Aida Nizar ha dichiarato di aver rinunciato alla partecipazione del Grande Fratello Vip tramite un post sul suo profilo Instagram, in quanto impegnata in altri progetti e troppo prese dalla sua voglia di vivere per pensare ad un nuovo amore. . . Dall'altra parte, Loredana ha mostrato il suo dissenso nei confronti della sintonia ritrovata tra Albano Carrisi e Romina Power, ospiti sia di Ballando con le stelle che del serale di Amici di Maria De Filippi. . Un'indiscrezione, quella dell'arrivo della Nizar e della Lecciso ad Uomini e Donne, che ha fatto ben presto il giro di tutti i social network, fino ad un nuovo colpo di scena. . . Elisabetta Soldati, la responsabile della comunicazione di Maria De Filippi, ha definito questa chiacchiera una vera e propria bufala del web. Dunque, Loredana Lecciso e Aida Nizar non saranno le nuove tronisti di Uomini e Donne. . . .